allora sfida dietro completare un livello in gioco libero utilizzando solo personaggi col cappello se e cambio in un personaggio che non ha il cappello allora il video finisce ora voglio usare due furbate che sono perfettamente in regola ma edo magari queste cose non le sapeva angelica sa che può attraverso un'ottima scelta ma mi sa che non l'ho sbloccata angelica io devo aspettare o gironzolare qua la 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 finché non vedo e coso era passato prima accidenti ma lui era il più bello e che la furbate che voglio fare non posso farla davvero in realtà perché dovrei cambiare in will turner per prendere un perso volevo partire con un livello scegliendo due personaggi che c'è uno e l'unico modo è facendo in modo che l'altro personaggio sia già presente nell'open world perché se io adesso cambiassi da qui a davy jones esatto mi cambia davy jones in barba nera mi cambia barba nera in davy jones non mi cambia secondo giocatore quindi dovrei prendere will e poi will e trasformarlo in qualcuno col cappello ma non vale ovviamente anche se teoricamente la cosa è fare un livello senza diventare il mio personaggio però no devo essere qualcuno col cappello sennò il video finisce ovviamente jack sparrow aveva il cappello e quindi questa è la seconda furbata io sceglierò jack sparrow col cappello e intendo fare il maestro non ho visto la ruota dei personaggi ah però peta è vero posso studiarmi la ruota dei personaggi e tenendo premuto ok no aspetta però io così posso cambiare tranquillamente con personaggi col cappello noi proviamoci vediamo che succede ma ciao signorina ti seguo cosa fai mi spari mi spara mi sparo mi spara mi sparo ok sì 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 come vuoi tu 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 buona morte ok ok e arcaroton ah no scusate altro rombetta carati ad alma sarò meglio che ingrassi perché sono troppo magra per te no 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 per favore ah giusto non sono non sono torcia munito cosa non ho unito non mi spargli ma salve signor tentacolo ecco vedi il mio primo appuntamento col tentacolo è andato molto Tutto male Voglio dimostrare che io conosco ogni musica di ogni cosa esiste Ma, signorino Dammi il tuo occhio, grazie Aspetta, il video non finiva quando c'erano raggetti Questa è un'altra storia Ok Credo che non manchi più nient'altro Ok, non manca più nient'altro Diamante, salsiccia, diamante e sappiamo dove è Abbiamo visto 600 volte Ora cominciano i guai Ora cominciano i guai Devo trovare qualcuno col cappello Che lanci pure le cose Hmm Yes Angelica il cappello Easy Sì Ho sbagliato E non sto pure giocando con tutti i livelli già pronti Eh Vai giù, vai giù Che diamante sta per scomparire Ti prego Oh, l'ho preso il volo Ok Allora Allora, a te quei tuoi granchietti Eh Anche loro pagano l'affitto Vabbè, come se no Ok Mmm, ci pensano loro all'affitto Vero, non è che adesso tu sei andato via senza pagare Wow, che transizione Cruenta Eh E meno male che Ha tenuto conto del personaggio che ero E che non mi ha cambiato in un personaggio Senza cappello Te Tere Tu 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 Ho mancato tantissimo Continua a mancare tantissimo Ok Ma Come si permette Oh, super bossa Decapitated E che io devo riuscire a Ok 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 Infatti mi ricordavo qualcosa del genere C'era l'ondata d'acqua Oddio, ho visto uno volare Ok Grandissima Angelica che è una mira perfetta Però io voglio un altro col cappello Olè Eh Esatto Voglio le super mosse col bastone Ma questa è la stessa super mossa che abbiamo visto prima Oh yes Questa è una delle poche aree dove si riesce praticamente a spammare la super mossa Oh 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 Stupendo Ok no, le rune avvelinate non fanno molto Perfetto Perfetto O no Serve sputafuoco per andare qua sotto, vero? Eeeh Ma signore Chi ha dei vigios oggi? Tata 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 Ah che bello che bello Però aspetta Eh In realtà non serviva andare qui Ah no, si serve per avere una torcia Tata 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 Io ho qualche altro personaggio che se ne è finita Però io voglio davvero giocare con Davy Jones versus Versus Davy Jones Però che schifo Davy Jones con la torcia Dove scappe? Dove scappe? Dove scappe? Anzi ce l'ho io il personaggio giusto da combattere C'è da usare contro Davy Jones BOOM Vabbè è giusto ora Questo è stato un po' Eh Poco necessario Andiamo Dai si è rincastrato Grande Ok Forza forza seguilo Tata tata Ok Perfetto Si è rincastrato Ti sto già aspettando amico Ti sto già aspettando Ok Combattimento epico finale Oh yes Che bello Che bello Ma Mi aspettavo almeno una parata Però sì Giustamente Eh signori Ci siamo riusciti Ci siamo riusciti Non è che non ci siamo riusciti Ci siamo riusciti come? Ho vinto Edo Mi spiace Quindi per far finire il video deve succedere una cosa molto brutta E sappiamo tutti qual è Dire Dio al nostro caro amico barba nera E diventare Questo è il cappello Questo è il cappello Questo Dio Che è il cappello Dio 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 Dio